Ciao, sono Giulia e vorrei mostrarvi il luogo dove gioco a scacchi, la società scacchistica torinese. C'è un salone superiore per il gioco libero e due saloni inferiori per tornei e corsi. Ci sono anche il bar e una biblioteca. I primi corsi vengono fatti all'elementari. Gli scacchi sono un buon allenamento per la mente. Tutti gli anni i migliori allievi di Torino partecipano al trofeo scacchi scuola. Ci sono corsi per ogni età e livello di apprendimento. I bambini che vogliono perfezionarsi entrano nella sezione ecolistica giovanile. E per chi vuole ci sono anche le lezioni online con istruttori certificati. In sede si organizzano tornei di ogni tipo, amatoriali e per professionisti. e in città si partecipano a tanti eventi e manifestazioni. Ma la cosa più divertente è che gli scacchi ti fanno viaggiare e conoscere amici da tutto il mondo. Grazie a tutti.